Ciao, faremo oggi dei coniglietti con i rotoli dello scottet, ci servirà un piatto dei colori tempere, io ho questi colori qua, una pizzatrice e tre rotoli di carta igienica. Prima di tutto cominciamo a formare il coniglietto con i rotoli di carta igienica, sceglieremo uno che faccia la faccina e poi allungheremo gli altri formando delle piccole orecchie, schiacciamole da un lato per renderle un pochino più ovali, facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, poi una volta che li avremo schiacciati bene dobbiamo pinzarli assieme. Allora, si prendono i fattori della carta igienica, facciamo due punti da una parte e dall'altra, facciamo questa cosa anche con l'altra, li uniamo insieme e voilà, faremo una forma di un coniglietto, poi i segno di cartone si possono ancora modificare, poi si sceglie un colore, io sceglierò l'arancione, si prende un pochino di colore, si mette un po' sul piatto e ci sporcheremo un pochino, lo spalmiamo un pochino e ci bucciamo, vediamo se basta, dovrebbe bastare, spargiamolo bene bene, si impregna, è come se fosse uno stampino, quindi si impregna la figura di colore e poi, un pochino, abbiamo messo per tutto e poi si preme, preme, preme sul foglio, dovrebbe essere venuto, vediamo subito, voilà, più o meno, sì, poi adesso vogliamo far aderire ogni parte, quindi magari ci mettiamo proprio dentro anche le dita che ci aiutano, vediamo un po', questo meglio, poi bisogna vedere un po' di farli combaciare bene, e una volta asciutti, se si vuole si può, una volta asciutti con un pennarello, facciamo con un indenebile, e gli facciamo gli occhietti e il musino, ed ecco i coniglietti.